Vittoria sofferta ma meritata quella di Ville? Meritata? Forse è un po' esagerata, però diciamo il secondo tempo abbiamo fatto meglio del Ville, abbiamo creato più occasioni, però il primo tempo non possiamo entrare e giocare come abbiamo fatto. Mi prendo tutte le mie colpe perché non ho corretto subito la posizione di Basic e la squadra ha seguito un po' i miei dettami, quella di andare a attaccare gli altri. Non l'abbiamo fatto bene, tra le tre linee difesa, centro-attacco c'era troppo spazio e loro tecnicamente erano bravi, riuscirono quasi sempre con dei passaggi in velocità e anche dei cambiamenti di metterci di difficoltà. Per cui al primo tempo mi prendo tutte le colpe e se siamo andati solo uno a uno possiamo solo ringraziare non so chi perché non meritavamo neanche di pareggiare. Per il secondo tempo siamo stati bravi, abbiamo abbassato un attimino anche il baricentro, li abbiamo aspettati, con Basic l'ho messo da numero 6, lui e Rer, abbiamo chiuso le loro fasi offensive e da lì siamo stati anche capaci a crearci con la transizione difensiva di resta palla e gol. E penso che alla fine abbiamo meritato questo successo. Il teoreo del 2-1 sta un po' stretto, viste le occasioni della rete. Sì, ma questo è purtroppo un po' il nostro neo, dobbiamo lavorarci, però se ce la creiamo vuol dire che c'è qualcosa di positivo. Bravi ragazzi ancora, però come hai detto giustamente qua dobbiamo chiudere perché la palla al 92 esero su punizione era veramente difficile e pericolosa. Però bravi ancora per quello che abbiamo dato questa sera perché andare sotto di una rete e poi riprendersi e vincere qua a Vilno non era scontata. Adesso c'è una pausa nel campionato. Sì, è una pausa che ci fa ancora bene perché come giocatore con Bottani, Dubaric, lo stesso Melanzi e anche gli altri urguagliani che hanno ancora bisogno di qualcosa per arrivare al 100%, ci può solo fare del bene e andiamo a questa pausa felicissimi. Ci possiamo lavorare con un altro spirito, però io non ho mai dubitato su questo gruppo perché da un anno che sono qua esattamente mi hanno dato tantissima soddisfazione e noi stanno dando ancora tante.